Cosa è la differenza tra un Lacebrel e un Computerbrel? Un Lacebrel si tratta di metà di uova per il cliente con distanza di 45 cm. Se il cliente usa un Lacebrel per arrivare alla pantalla del computer, se non si tratta di metà di scarpi, si tratta di distanza di 60-85 cm con il computer screen. Un Lacebrel si tratta di metà di uova per il cliente, si tratta di metà di pantalla con il cliente e si tratta di distanza di 6 m. Se tratta di necessità di cliente, si tratta di 1 m, 2 m o 6 m per il cliente. Il Lacebrel si tratta di protezione contro il ruota per il Blu-ray e tratta di tranquillità per attraverso le ore per l'arguardo. Se volete più informazioni sull'Lacebrel o Lacebrel, passate liberamente circa noi sull'Optiq Anna, riepvo Fokkerweg, Nassalini.